Toccherà a Filippo Baldinini il compito di trasferire i valori del Forlì ai nuovi arrivati in casa bianco-rossa. Il centrocampista di Nova Feltria può essere definito a tutti gli effetti un veterano del club romagnolo e nella prossima stagione si metterà al comando di una squadra fortemente rinnovata dalla campagna acquisti. Adesso stiamo iniziando a conoscerci, sono tutti ottimi ragazzi e li conosciamo, sono anche ottimi giocatori, quindi penso che il tutto avverrà in modo il più naturale possibile. Da questo punto di vista il ritiro della prossima settimana sarà sicuramente un'ottima cosa per iniziare. Grandi sono le motivazioni dopo un campionato, quello appena trascorso, in cui il Forlì ha rischiato seriamente di retrocedere. L'anno scorso è stata una stagione un po' maledetta, fortunatamente siamo riusciti a chiuderla nel migliore dei modi, però dobbiamo tirare una riga, non pensarci più e lavorare per far sì che la prossima sia una stagione esaltante. Tutti abbiamo tratto beneficio dal fatto che la squadra aveva iniziato a girare e a lottare per un obiettivo comune. Io personalmente ho ricaricato le batterie perché è stata una stagione lunghissima, soprattutto mentalmente, e sono pronto per ripartire.